Passare alla ascolta Ok devo informare poco mio Sì, sì. Ah, è trasformato vabbè Un artrip Completo Un artrip 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 Ah non mi visore la mura Questa è questo? Dice se decidesse di ritrasformarsi Non c'è un modello che non ha Niente Guarda te coglioni Ti trasformi quando non devi Ma bubomimo non esce Voglio bubomimo Non c'è così Non c'è così Non c'è così E per riovere il gioco un attimo devo fare una cosa Non c'è così 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 E dot certo Un courto ebenfalls Purtroppo Guarda che sarà un bell'inferno ottenere la tua bomba, eh. Più che altro voglio capire di che tipo è, perchè così usiamo le sue chiavi, se no. Queste chiavi normali mi sa che è dure. No, provo a usarne uno e cinque stelle. Dopo questo provo a usarne uno e cinque stelle. Ehi madre, buy this masterpiece. Una volta mi sembra strano chiamarti così, comunque. Non ce lo trovo dove mi amarti. Oh, Pupo Mimo. Please. Pupo Mimo, please. Togliato per favore. No, prendiamolo. Ok. Ma su Mokai è in pausa però. Sto facendo le secondarie perchè non sono abbastanza corte. Mi serve il Pupo Mimo. Mi serve il Pupo Mimo. Pupo Mimo. Pupo Mimo. Pupo Mimo. Pupo Mimo. Pensavo che non mi avvicinavo perchè c'era il fuoco Ma è orribile perchè devi farmare proprio Mimo o è orribile la missione? Quale? Quale missione sergente quadra? Se non mi dai più dettagli sto giocando a troppe cose attualmente Quella che devo aiutare i blasters ma c'è overnian non sergente quadro Ho fatto una con overnian che mi ha regalato overnian Pursse non l'ho fatta quella che diceva No No Incantevoli eh Il mio 10 Usiamo una chiamata incantevoli vediamo Ciao Vito Che questo è lo sai che numero è tipo numero 20 21 che non so Sì Allora staff Perchè Quaal Non l'ho fatta, dovresti sbloccare una parte della map C'è una nuova map Probabilmente Ok, ricordi? Non ho sbloccare una mappa dal 15-18 Sì, ma non c'è Pupomimo C'è una nuova map C'è una nuova map C'è una nuova map Dai, perchè alcuna volta non parte subito? Che rottura Numero 5, non penso della roflat Ora vediamo No, mi sa di no No, non l'ho fatta Questa qua è il ritorno dei blasters Ce l'ho ma non l'ho fatta No, non esce Pupomimo No, non esce Pupomimo Che cazzo devo fare? Scusa C'è stato pure la moneta incattevole C'è stato pure la moneta incattevole C'è la chiave no? La moneta C'è, io so che si trova qua Poi si trova da cosa? Dallo scheletro quello giornaliero Ok, ma... C'è... Non è possibile che non esce C'è... E' raro Ma... Un gioco del genere è raro, vabbè Aspettano pochi Che merda Ah, ma la c'è coma Ma prima non c'era quel coma Ma da quando c'è coma la? No Ma liberated dalla c輪 No, la c'è Legends Oh, la c'è Eシ Sì E Pup C'è giorno e notte non dovrebbe incidere comunque qua nei portari, ho sbaglio? O incide? O incide? O incide? Cosi d' Deswegen lauraima? E' un poire Silviorico? Bisprimerazione. O incide? O incide? O incide? O incide? Sì, ma non mi esce. Non c'è... Così ci metterò a diegano. Non esce Pupo Mimo. Mi sa che ha una bella spina di fianco da formare questo. Che cazzo. Sì, sì, l'ho capito, l'ho capito. Io parlo che non esce Pupo Mimo. Ed è una merda questa cosa che non mi esce Pupo Mimo. Pupo Mimo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E' un po' chees. 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 Niente. Se me ne esce uno per sessioni già tanto. E' un po' che esce sempre. Almeno mi esce sempre. Que' le persone vado a prendere il trasformato. E' un po' chees. E' un po' chees. Poi Rivela non si evolve in questo gioco Ma perchè non hanno messo l'evoluzione di Rivela? Tatto il bello come nemmeno Cioè non ha senso Ma che era con una fusione Ma non ha senso Vabbè Gli hanno tolto pure l'evoluzione La povera Rivela Ma niente po' La povera Rivela non si evolve in questo gioco La povera Rivela non si evolve in questo gioco La povera Rivela non si evolve in questo gioco Tanto non si evolve in questo gioco Ma non è uno yokai d'elite Non capisco perchè mi dovrebbe uscire con le 5 stelle Però vabbè proviamolo con uno Ne varia Banco spiro Eh ma non riuscirà manco così capito Già lo so E' una merda Non esce Sai un modo migliore per ottenerlo tu Per farmarlo Pupo Mimo inteso Non saprei Sì Io so solo qua Ah solo loro dovevo chiedere Ho mandatelo ancora in madre Ripperori Gelino A E Mi sa che faccio cosi, Monguem. Per forza, per risparmiare tempo. Se no non lo trovo più. Ma non esce. Mamma mia, ho troppato qualcosa di nuovo. Non so cos'era. Sono andato veloce. Non so cos'era. Non so cos'era. Non so cos'era. I don't know No, no, no! Non solo No, no! No, no! 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 No, no! I don't know You'll say this I don't know No, no! Grazie a tutti Fa tempo fammi fare sistemare un'altra cosa qua Io ho formatato quindi devo sistemare più cose Mi sono accorto ora di questa cosa Grazie a tutti Grazie a tutti Qua sono perché devo trovare un buon mimo C'è con queste gente guarda Questa è stata diversiva Questa è stata diversa Questa è stata diversa Questa è stata diversa Ma guarda quanto tanka Questa è stata diversa 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 Quelli con le... Quei cosi lì non so come prenderli. Chiave serene. Ah, mi danno quella chiave qua. Quelli con le... Con lo spillo. Non l'ho mai capito come prenderli quei nuovi. Ma cos'è quel logo? C'è un logo strano. Questo è ancora peggio. Per i danni. Non ho con Shadow Type. Oiii. 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 Grazie a tutti. ma se mi lasciano avocando che mi drazzurro mato No lo presto. Ma è mortale! Non l'ha colpito, ma non l'ha colpito e mi ha fatto danno. Oh, finalmente. Ma è un noco, ma sì, ma non è un noco normale. Non è un noco normale. Non è un noco, ma non è un noco normale. 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 fai perdere buono e ti rompe il culo eh attorno di nuovo bianco vabbè non possiamo progredare giochiamo solo bianco di buono nero illuminotto c'è pure qui eeeh recupera la vita po' questo Eh ma recupera la vita Ma distrutto E non l'appresso E non l'appresso Non l'appresso E non l'appresso E non ilù Es builders Non l'appresso E non l'appresso C'est un helpo E non le penne Oh Oh Ok Oh no possiamo catturarla Alcuna volta ti puoi catturare prima di uccidermi Non ho capito sta cosa bene Non ho capito Come se cierra Luminote Non ho capito Non ho capito Luminote Stiamo pure un po' livellando Anche se dovrei avere equipaggiamenti migliori Li dovremmi tipo migliorare Facciamo troppi pochi danni Non ho capito 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 Passo Tonti Non ho capito Molti Grazie a tutti. 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 Non so che livelli stanno questi, ma sono belli voti. Infatti stiamo livelli stanno livelli. Sì, ma mi salita a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altro nero. Altro nero. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Questa non è male, fa bezzani Perfetto Siamo riusciti a prendere l'archivio per... Vip. In tutto questo Pupomimo non sta uscendo comunque. Non è che mi dispiace però, non è quello che vuoi. Sembrano me l'ho spostato. Sembrano me l'ho spostato. A presto. Siamo riusciti. 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 Ma ci sono sempre gli stessi o è la mia pressione? una prova del menù che mi hanno chiesto oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto? Oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto. Oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto. Oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto. Oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto. Oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto. Oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto. Oltretto di attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto, perché non è nata in attaccare il mio otto. Eh, lo sapevo dove ho uccidolo per prima, io me lo immaginavo, ma se non lo hanno mirato, non è colpa niente. Noi, 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 noi. Nobre. 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 Calvilla Eeeh.. Ragnobu non c'è l'onere, man Sina bebella l'arruf Go to waste Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 forse. a tutti. 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 dentro. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. ho triplicato i soldi che avevo ma ancora non ho trovato buono. vabbè. 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 c'era una sfigata questa. ma me manca l'ultimo. ce l'avevo fatto. rientriamo ve lo vedreste chiavi diminuire le altre aumentare perché qualcuno la trovi in giro di chiavi trasp Eh, ma mi serve tipo un mimo questo, ma è da tipo 3-4 rosse in una volta, vuole di quelli. Durante. Semplice. Allora, quelle lì si possono sfruttare in altri modi, le possiamo convertire per potenziali ovviamente. Oh, un po' mimo. Allora, ormai io ritengo le aspettative basse. Ma, ma, cosa mi dai? Una sola. Dai, ma non mi bastano una sola. Mi sa che non mi bastano. Non so se non mi bastano, mi bastano precisi, onestamente. Vabbè, ora controllo. Intanto facciamo questi. Un po' mimo. Un po' mimo. Eh, ma io non so non colpirle quelle robe con lo spill. Mi dice colpiscili con lo spill. Un po' mimo. Un po' mimo. Un po' mimo. Un po' mimo. Ogni ascolino. Un po' mimo. Ma, se non parlo me lo dà quanto vado. Sarmola dorata. Rossa. Oh! Finalmente! Abbiamo operato! Usciamo e salviamo dubbi perché qua... Dobbiamo salvare subito. Che ci ho messo in eternità per farmarlo. Si era autosalvato già. Sì! Guarda! Questo stronzo di cazzo! Sì! la 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 E no devo mettere pure squadra Porto nel passato Ma c'è scritto nel passato che è futuro non c'è una panchina qua nooo c'è scritto solo di giorno fantastico sembra che abbiate fatto amicizia con popo mio bene ora siamo pronti sul serio andiamo da per lei al passato ah no vabbè me lo considera considera ancora giorno si devo farlo diventare per la più forte quindi sei tu la ragazzina che vuole sottoporsi all'addestramento? si la prego mi insegni tutto ciò che c'è da sapere che cos'è questo tono flebile? parla più forte non ti sento volevo dire si sono io sono pronto per cominciare spero che vada tutto bene mia nonna perde spesso la pazienza come dici nipote mi faresti la cortesia di ripeterla eh cosa non stavo dicendo niente tranquilla in ogni caso spiegami bene tutto ciò di cui hai bisogno ecco io voglio diventare più forte per poter proteggere i miei amici finora sono sempre stati loro ad aiutare me ma ora vorrei ricambiare il favore perla ti vedo molto grintosa ragazzo molto bene ti aiuterò io forza muovimo tommi a te ci sono possiamo iniziare nonne mamma che sbagliato non si è sdoppiato wow non avrei mai pensato non avrei mai pensato che si sia una scena simile e voi che avete da guardare non penserete mica di starvele da parte che cosa dovete affrontarle dove pensi di andare ragazzi non voglio altri 200 piegamenti subito aiuto non ce la faccio più e va bene se ci tenete tanto faremo una pausa di ben 45 secondi ok 45 secondi 45 secondi oh no mi ha distrutti ma sono a pezzi quando finirà tutto questo ah non è anche la forza per tirarmi su qualcuno mi aiuti siete due scansa fatica mi avete molto deluso a sapere dovreste prendere esempio da perla piuttosto lei si che è in forma si 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 grazie di cuore signore ah 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 ma figurati ragazza mi ricordi me alla tua età che stanchezza ma la prossima volta non mi farò cogliere il preparato è finito così si si è troppo fantastico ma quello che dovrebbe essere buono ma è finito così non non ok non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti